Un'ultima domanda un po' personale, perché è sempre così colorato Giannino? Perché da un certo punto di vista è una maniera paradossale per far notare che la classe politica italiana che si porta a casa un mucchio di soldi rispetto agli italiani e che non riesce a capire che per riacquisire dignità e credibilità dovrebbe per esempio dimezzarsi gli stipendi dei parlamentari, perché quelli tedeschi guadagnano la metà dei nostri, tanto per essere chiari, e loro si vestono invece per nascondere questa realtà come gli italiani qualunque. Allora, per vestirsi come gli italiani qualunque bisogna avere le condizioni di reddito degli italiani qualunque. Per protesta io invece mi vesto in maniera eccentrica, perché il paradosso di una classe dirigente che ha sempre le mani lunghe per ficcare nelle tasche degli altri, lo voglio sottolineare anche col fatto che con un po' di colore sveliamo la loro ipocrisia.